Mi avete chiesto se è possibile incolpare di omicidio un membro del consiglio studentesco una volta ottenute le sue impronte su un'arma. Scopriamolo subito. Sì, Acane, parlavo proprio di te. Per prima cosa bisogna far parte del club di teatro. In questo modo avremo accesso ai guanti che ci impediscono di lasciare impronte in giro. Dopodiché prendiamo un oggetto innocuo tipo le forbici. Dopodiché ci serve un oggetto innocuo tipo le forbici e dobbiamo lasciarle per terra in modo che un membro del consiglio studentesco le veda. Le veda e possibilmente le raccolga. Cosa che infatti fa, ma purtroppo lo fa con un fazzolettino. Quindi no, non è possibile incastrare per omicidio un membro del consiglio studentesco. Stessa cosa vale anche per le insegnanti. Nessun insegnante tocca un oggetto senza un fazzolettino, quindi è impossibile ottenere le impronte delle insegnanti o del consiglio studentesco. Tuttavia, un tempo esisteva un bug che permetteva di incastrare per omicidio la professoressa di ginnastica. Purtroppo questo bug ormai è stato risolto.